Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese Allora, come state? È tantissimo che non faccio un video così seduto, con calma, in cui vi racconto qualcosa perché devo dire che ci ho avuto un paio di mesi, un filino, pieni di cose da fare perché non so se mi seguite su Instagram, se non mi seguite andate a farlo ma avevo aggiornato sul fatto che dal momento che ormai ho fatto tutti gli esami che potevo fare per la triennale mi sono iscritto a qualche esame a corso singolo della magistrale così poi potrò direttamente accedere al secondo anno, sperando che tutto vada bene non ho capito benissimo come funziona perché comunque bisogna dire che la burocrazia con le università eccetera non è sempre facile, però non mi cambia moltissimo pagare gli esami singolarmente o pagarli diciamo la retta annuale, quindi alla fine per me è stato anche piuttosto conveniente sapete io come sono che mi volevo iscrivere ad un esame, poi dopo magari vedi un altro esame che ti interessa ti iscrivi a due e poi ti iscrivi a tre morale della favola io mi sono iscritto a ben cinque esami per un totale di 36 crediti uno è un esame di nuove religioni del Giappone che lo sto trovando veramente interessantissimo questo corso poi devo dire che l'insegnante ha caricato tutti i video su YouTube vi condividerei i video che fa ma purtroppo li ha caricati come dire in modo non elencato quindi non credo che le interessi molto che questi video vengano visti al di fuori del suo corso in ogni caso se vi interessasse leggere magari un po' degli argomenti trattati vi lascio comunque il suo blog in cui pubblicherà delle tesi e se anche la mia non farà schifissimo probabilmente prima o poi ci sarà anche la mia tantissimo tempo fa vi avevo detto che prima o poi vi avrei parlato di una setta una setta molto pericolosa che esiste in Giappone che fa parte delle nuove nuove religioni che sono tutte quelle religioni che si sono sviluppate dopo il 1970 per distinguerle dalle religioni che si sono sviluppate comunque dal periodo Meiji in poi che si chiama Oumu Shinrikyo allora probabilmente ne avete sentito parlare quella setta che ha fatto quell'attentato nel 95 è stata veramente una cosa scioccante tra l'altro ha avuto una ripercussione più o meno su tutto il Giappone perché è stato veramente un episodio diciamo singolare che non era mai avvenuto prima in Giappone partiamo dagli albori allora questa religione è stata fondata da Asara Shoko Asara aveva dei problemi fisici dalla nascita era cieco da un occhio e parzialmente cieco da un altro e questo secondo la tradizione comunque l'ha portato a diventare un agupuntore nel 77 si sposta a Tokyo dove conosce la sua futura moglie dalla quale avrà ben sei figli il suo interesse è per la divinazione, la medicina cinese e anche per le teorie di Nostradamus lui si interessa al buddismo esoterico e anche alle pratiche comunque dello yoga che erano molto molto in voga tra i giovani giapponesi degli anni 80 ma diciamo che il suo boom lui diventa diciamo virale dal 1985 quando una sua foto viene pubblicata su una rivista e sembra che stia lievitando non so se vi è mai capitato di vedere questa foto però questa foto negli anni 80 ma comunque se siete un pochino interessati al Giappone o comunque vi siete interessati alle nuove religioni probabilmente l'avrete vista questa foto qua la rivista che ha pubblicato questa foto è la rivista New Age Twilight Zone con la pubblicazione di questa foto tantissimi giovani che magari erano interessati allo yoga la meditazione o comunque all'acquisizione di poteri si interessano a Asahara e lo cercano per poter apprendere da lui questa sua pratica che ai giorni nostri chiameremo Photoshop e siccome un sacco di gente comunque si era unita e interessata a lui nell'86 quindi un anno dopo lui inizia a fondare questo movimento chiamandolo Om Shisenkai i membri di questo gruppo erano soprattutto dei giovani ben educati della città di Tokyo Asahara sempre in quell'anno compie un viaggio in India e quando torna dice di aver ricevuto l'illuminazione dopo questo evento comunque tutti i giovani che hanno iniziato a far parte di questa setta hanno abbandonato le famiglie e si sono riuniti per vivere in comunità l'anno dopo cambia nome questo movimento in Om Shinrikyo che è il nome comunque attuale di questa religione se vogliamo definirla così però è interessante come si passa da associazione quindi Kai a Kyo quindi religione che sarebbe la religione della vera verità di Om quindi si capisce come l'intento sia ormai chiaro e la cosa più interessante è che Asahara nel momento in cui questo movimento diventa un movimento religioso si rende conto che lui ha la missione o comunque il suo movimento ha la missione di dover salvare il mondo una rivelazione che gli è stata comunque rivelata da diversi spiriti tra cui anche il dio Shiva di cui lui dice di essere niente poco di meno che la sua rincarnazione uno degli elementi molto simili comunque tra questa divinità e Shiva è che entrambe comunque pensano di poter ricreare il mondo partendo da una distruzione una delle pratiche più importanti comunque di questo movimento è il praticare ascetismo per raggiungere l'illuminazione e questo movimento si propone come fine il raggiungimento della felicità allora i modi diciamo per poter raggiungere questa felicità sono principalmente quattro il primo riguarda comunque l'importanza della comunità quindi del vivere in comunità abbandonare le proprie famiglie andare a vivere insieme e comunque questa setta il secondo elemento importante è ascoltare gli insegnamenti di Ahasahara a ripetizione allora siccome in quel tempo non c'era youtube questi insegnamenti venivano registrati su videocassette che poi dovevano venire viste in loop dai suoi discepoli tra l'altro c'è anche un documentario dove fanno vedere questa pratica c'è anche un documentario che la professoressa ha condiviso con noi perché tutto quello che vi sto dicendo tra l'altro è preso pari pari da quello che ci ha insegnato comunque la nostra insegnante di storia del pensiero del Giappone moderno e contemporaneo la terza pratica è sostituire comunque tutte le nozioni errate che si avevano e sostituirle appunto con gli insegnamenti estremamente validi di Ahasahara e l'ultima fase, la fase 4, è quella di comunque mettere in pratica questi insegnamenti ci sono degli elementi di millenarismo perché comunque Ahasahara parla di una guerra nucleare che è molto vicina nell'88 inizia comunque a studiare il libro dell'apocalisse di Giovanni e Ahasahara dice che comunque solo i praticanti della sua religione che avranno comunque acquisito dei poteri necessari potranno sopravvivere a questa guerra nucleare nell'89 inizia anche a studiare ed analizzare meglio le profezie di Nostradamus e il risultato è che invita chiunque a prendere rifugio in Om per potersi salvare appunto da questa imminente guerra nucleare in questo periodo lui modifica anche uno degli insegnamenti del buddismo tibetano che è il concetto di Poa, un rituale che viene fatto sulle anime dei defunti nel modo che queste vengano purificate e possano accedere a una dimensione spirituale più elevata questo sarebbe il significato comunque originale di Poa in questa sua visione comunque nuova che c'è adesso Ahasahara lui dice che comunque il suicidio è giustificato quando tu praticamente uccidi una persona prima che questa possa commettere delle azioni che possono portargli del karma negativo quindi l'uccisione è il modo per salvare un'altra persona ok? e questa idea comunque è la base di quello che ha portato il movimento alle uccisioni di massa tutto ciò inizia quando uno dei fedeli di questo movimento muore durante un rituale che stavano facendo all'interno del movimento un altro dei discepoli ha deciso di voler raccontare al mondo quello che era successo nell'89, lo stesso anno in cui tra l'altro lui stava cercando di fondare comunque il suo partito politico e dal momento che queste rivelazioni avrebbero potuto danneggiare comunque l'immagine di questo movimento a Sahara ha ordinato l'uccisione di questo suo discepolo che voleva raccontare la verità all'esterno e giustificandolo proprio come Poa perché lui comportandosi così avrebbe creato karma negativo perché avrebbe impedito comunque a Om di realizzare diciamo questo suo tentativo di poter salvare il mondo non vincono nemmeno un seggio il risultato negativo viene percepito comunque come un regetto della società per questo movimento cercando comunque di emergere in politica comunque si attira molta attenzione dei media e comunque c'è stato anche delle riviste che hanno parlato di Om in modo molto negativo e l'hanno estremamente criticata la visione di Sahara cambia diciamo soprattutto per quanto riguarda l'apocalisse imminente che lui ha predetto e infatti si assumono sempre di più dei caratteri negativi e secondo comunque Sahara l'uomo non potrà più salvarsi o comunque cioè la società intera non potrà più salvarsi quindi il compito di Om non sarà più cercare di salvare il mondo ma cercare di portare in salvo comunque coloro che hanno deciso di convertirsi alla sua religione questa guerra religiosa comunque avverrà come una specie di conflitto religioso tra il buddismo da una parte che praticamente è il bene contro questa società comunque materialistica che cerca solo la felicità in questo mondo ci sono una serie di ex membri e famiglie degli ex membri che si sono riuniti per poter denunciare comunque questo movimento e grazie all'avvocato un avvocato di nome Sakamoto che inizia ad indagare comunque su Om alla fine di quell'anno la famiglia dell'avvocato verrà uccisa Asahara cerca di comunque sviluppare questo suo credo anche all'estero in particolare in Russia dove acquisisce moltissimi membri nel 93 acquisisce anche una fattoria in Australia con l'obiettivo di estrarre uranio e fonda anche un'azienda in Giappone dove lui comunque potrà rifornirsi di sostanze chimiche tutto questo per organizzare un primo attacco diciamo nel 94 a Matsumoto anche se questo attentato in realtà non viene attribuito subito a questo movimento si avranno comunque 7 morti e un centinaio di feriti e guardate a caso tra queste vittime ci sono anche alcuni giudici che stavano seguendo dei casi legati comunque proprio a Om 20 marzo del 95 ci sarà comunque un nuovo attacco sempre col gas Sarim con migliaia di feriti e 13 morti due giorni dopo l'attacco un sacco comunque di poliziotti armati romperanno comunque nelle strutture di Yom con delle irruzioni che verranno trasmesse in diretta dalle televisioni a maggio dello stesso anno finalmente anche Asahara che era sfuggito verrà catturato, imprigionato e condannato a morte una condanna che è stata eseguita a luglio del 2018 allora sul perché si è aspettato così tanto per diciamo compiere questa esecuzione vabbè molti studi sono un po' interrogati alcuni hanno detto che probabilmente l'hanno voluto fare proprio nel 2018 e non più tardi perché comunque l'imperatore aveva già abdicato quindi si sapeva che nel giro di pochi mesi sarebbe iniziata una nuova era era sarebbe stata comunque, probabilmente sarà una nuova era in cui comunque il Giappone ospiterà le Olimpiadi forse l'anno prossimo si vedrà e quindi non voleva comunque iniziare questa diciamo nuova era con questo peso e quindi hanno deciso di eseguire questa esecuzione tra l'altro dalle indagini che sono emerse sono emerse che negli ultimi sette anni comunque dal 98 al 95 sono morte ben 33 persone di questo movimento alcune in seguito a dei rituali altre per omicidi e altre hanno fatto commesso dei suicidi dopo il 95 comunque molte persone lasciano il movimento e molte persone non erano a loro detta comunque nemmeno al corrente di quello che stava succedendo comunque all'interno del movimento stesso e non sapevano di questa sua volontà di Asahara di voler realizzare questo POA all'interno comunque di gruppi molto ampi con degli omicidi di massa molte persone comunque che sono ancora all'interno del movimento si sono distanziati da qualsiasi pratica di violenza e hanno continuato e questo movimento cioè a me sembra incredibile che esista ancora in ogni caso nel 2000 questo movimento cambia nome e prende il nome di Aleph e questo comunque movimento è sotto stretto controllo della polizia le famiglie dei membri di questi movimenti hanno subito molte discriminazioni due dei figli di Asahara non sono stati accettati comunque in scuole pubbliche e tra l'altro non è stato nemmeno dato il permesso di risiedere in alcune città devo dire che questo movimento comunque ha segnato davvero un punto di svolta all'interno comunque della percezione delle religioni per quanto riguarda la società giapponese e ci si è chiesti qual è il ruolo che la religione dovrebbe avere all'interno della società tra l'altro su questo ha fatto un libro anche Murakami l'ho ordinato proprio ieri su Amazon speriamo che mi arrivi grazie grazie grazie